Quello che state vedendo è un'azione promozionale di questa organizzazione che stiamo facendo a favore di un'associazione Ollus che si trova in Guinea-Bissau. Guinea-Bissau è uno dei quattro paesi più poveri del mondo. Noi avevamo in giacenza, penso questa struttura, questa ambulanza che commercialmente in Italia vale poco, anche se ha una percorrenza chilometrica di 18.000 km. Il fatto è questo, in Africa dove non ci sono officine, non c'è specializzazione per quanto riguarda i mezzi dotati di centraline e di moderni sistemi, questo è quanto meglio si possa presentare per le loro esigenze. L'organizzazione, l'isola che c'è, non l'isola che non c'è, l'isola che c'è, ci ha inoltrato una richiesta perché hanno un pronto soccorso dove esiste praticamente un milione di persone di cui oltre 900.000 sono al di sotto della soglia di povertà, non hanno risorse mediche, non hanno risorse di nessun genere, per cui abbiamo deciso di donare questa unità, questa ambulanza insieme alle attrezzature che stiamo vedendo. Un generatore di ossigeno che non ha necessità praticamente di bombole, ma può generare in continua ossigeno, lo vediamo in questa ripresa, queste borse per portare l'acqua, barelle e quanto possa occorrere per e che era in nostra disponibilità per dare un supporto all'Africa praticamente più e meno ambiente. Ecco, queste strutture sono donate da noi, WWA di Guidonia, a questa missione africana. Ma voi come potete permettere? Noi siamo un'associazione che grazie al disinteresse amministrativo a 360 gradi, siamo un'associazione che dopo 23 anni stanno lasciando morire e di conseguenza prima che andremo a decedere siamo facendo una donazione di organi. Ecco, questo è uno dei nostri organi che doniamo all'Africa nella speranza che se ne avvantaggino le popolazioni nemmeno ambienti. Siamo tra l'altro molto fieri di partecipare a questa cosa perché di solito le organizzazioni di protezione civile, quelle con la Pima in minuscola, si avvalgono di donazioni. Noi invece questa ambulanza prima l'abbiamo pagata e adesso la stiamo regalando, la regaliamo all'Africa. Questo è il nostro orgoglio e questo è il nostro contributo sociale e chi sa peggio di noi. Grazie a tutti e arrivederci.